Nascondi non di nondello, è un gioco assai bello Nascondi non di nondello, questo un indovinello è Nascondi non di nondello, nel mio cuore un segreto c'è Nascondi non di nondello, solo il Dio sa quale Nascondi non di nondello, solo il Dio sa quale Nascondi non di nondello, e se tu lo vuoi scoprire Nascondi non di nondello, fino al cielo dovrai salire Buongiorno, mister, maestro o semplicemente David Lynch È novembre 2021 e è lunedì in Naples 64-65 Fahrenheit, circa 18-19 Celsius Questo significa che è sempre quella giornata veramente, 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 veramente mite Come in questi giorni, in questo periodo, anche se leggermente più fresca E oggi pensavo al fatto che la giornata dei morti, o almeno, non so se anche a livello internazionale Ma credo di sì E quindi, in relazione a questo, pensavo Sotto vedremo se uscirà il 2 nei suoi numeri E poi, in relazione a questo, pensavo al fatto che, come dicevo, accennavo già ieri Sulla mia tastiera, sto caricando dei pezzi in relazione al tema In relazione anche al tema Halloween Purtroppo era impossibile caricarli durante, diciamo, la nottata di Halloween Perché, a sua volta, a giorni precedenti, ho dovuto caricare altri pezzi Altre opere, quindi, i pezzi Questi nuovi pezzi, dedicati, diciamo, ad Halloween E al 2 novembre, alla giornata dei morti, necessariamente sono scalati E quindi ho iniziato ieri questa trilogia della morte Così l'ho chiamata, diciamo, del 31 ottobre al 2 novembre Alla tastiera ho iniziato ieri con Jacob Sledder Di Adrian, grandissimo film, masterpiece per me Del 90, di Adrian Lagne E il tema principale è colonna sonora composta Da grande Maurizio Giarre E quindi ho già inserito il trailer di questo mio pezzo Interpretato da me, cioè il tema principale di Maurizio Giarre Interpretato da me Nel report di ieri, forse lo rimetto perché L'ho caricato sul tardi, il report di ieri E quindi il pezzo forse è passato inosservato Ma può essere anche che caricherò la seconda parte Che se tutto va bene dovrei caricare Diciamo stasera, al massimo domani mattina Stanotte, vedremo Nel caso inserisco quella Se ce la faccio in anticipo Inserisco la seconda parte come trailer Previa, diciamo, in questo report Appunto, se siete interessati Iscrivetevi, diciamo, al canale Il mio canale principale, per essere interessate La seconda parte, la terza parte di questa trilogia Non la svelo ovviamente Però appunto, voglio solo dire che Identifico con Halloween e quindi proprio con Il terrore assoluto È totale L'orrore totale La seconda parte di questa trilogia Che appunto, come ho detto già Spero di caricare Entro stasera, o massimo stanotte Diciamo, i pezzi Sono tratti appunto da due film Di cui il primo È stato appunto, come ho detto Jacob Sledder L'altro non lo svelo ovviamente E poi C'è Ci sono due pezzi È una serie tv È una mini serie tv italiana Ma poi Approfondirò Meglio quando caricherò Appunto la parte Questa seconda parte Anyway As you just see from the window Today We have Those beautiful blue skies And golden sunshine Ma non ne sono proprio convinto Come ha visto Era una via di mezzo Ci sono sole e nuvole Al contempo Anche molto coperto Non so se Peggererà più tardi Vedremo Come sempre Le cose Posso sempre cambiare Un momento all'altro But as always We will see Said this So From the mythical window With the colored curtain It's beautiful But Ancora grigio Diciamo grey Colored curtain Behind me And it's Green Roller shooter And finally From my mythical keyboard Yamaha Yamaha DGX 640 IPG 625 Have And great day Him All the people Who follow And also Also the haters Anche gli odiatori Sia sempre importanti And everyone too From the Who H